Buona domenica, oggi per i servizi al cittadino dell'Inps parleremo dell'assegno per il nucleo familiare e i nuovi livelli reddituali. I livelli di reddito familiare per il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente con effetto dal 1 luglio di ogni anno, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai impiegati elaborato dall'Istat e in questo periodo a cavallo dal 2017 al 2018 quest'indice è aumentato del 1,1%. I nuovi livelli reddituali per l'assegno per il nucleo familiare sono stati comunicati dall'Inps con la circolare numero 66 del 17 maggio 2019 ed allegate a questa circolare vi sono le tabelle relative alle varie tipologie di nucleo familiari e i relativi importi degli assegni. Qual è la novità di quest'anno? Dal 1 aprile 2019 le domande che precedentemente erano trasmesse dal lavoratore al datore di lavoro in maniera cartacea attraverso il modello ANF DIP SR16, dicevamo dal 1 aprile 2019 dovranno essere trasmesse all'Inps in modalità esclusivamente telematica, questo per due motivi fondamentali, il primo per un corretto calcolo dell'importo spettante e il secondo per una maggiore aderenza a quelle che sono le normative in materia di protezione dei dati personali. Con l'aiuto della grafica vediamo adesso quali sono i canali attraverso cui è possibile trasmettere in maniera telematica le domande di assegno per il nucleo familiare. I canali sono due, il primo è il web, cioè tramite il servizio online dedicato accessibile dal sito www.inps.it e se si è in possesso o di PIN dispositivo o di una identità SPID, cioè il sistema pubblico di identità digitale, almeno di livello 2, o attraverso il CNS, la carta nazionale dei servizi. Il servizio è disponibile dal 1 aprile 2019. Il secondo canale è quello dei patronati intermediari dell'istituto anche se non si è in possesso di PIN. Cosa succede per le domande già presentate? Le domande già presentate per il periodo che andava dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019, cioè quelle presentate nell'anno precedente, non devono essere presentate in maniera telematica. È sufficiente la presentazione già fatta in maniera cartacea. Per quanto riguarda le ditte cessate o fallite, in questo caso la presentazione deve essere fatta in maniera telematica e in questo caso ai due canali già evidenziati precedentemente, cioè il web e i patronati, si aggiunge per le ditte cessate o fallite un terzo canale di trasmissione delle domande che è quello del contact sender multimediale, cioè il numero 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da rete mobile. Concludiamo dicendo che per i lavoratori dipendenti delle aziende attive del settore privato agricolo la modalità di richiesta di domanda di assegno per il nucleo familiare non cambia, viene effettuata sempre in maniera cartacea attraverso la presentazione al proprio datore del lavoro del modello ANF DIP SR16. Grazie e buona domenica.